E' venuto in questo nuovo episodio di Metal Gear Story 4 The Patriot Quindi raga, guardatevi filmato e buona visione Icon, even the dead have ears Snake, we've got to go We've got an old friend waiting for you What a car The test results Proteome analysis was positive But the mRNA analysis turned up negative The wrinkled skin, the hardened arteries Your early aging symptoms look like classic fairness syndrome But none of the tests were able to pinpoint the cause So Well Judging by how rapidly the aging has progressed I'd say A year at best Right Yeah Snake Let's try another doctor It won't make any difference I'm not an ordinary man to begin with Not to mention the fox die You're right But we don't know where Naomi is Naomi Ah, Snake Colonel Good to see you Well I'm not a colonel anymore, Snake I figured the only place I'd see you dress like that would be at your daughter's wedding What are you doing these days? I'm working for an organization under the UN Security Council The analysis and assessment staff of the PMC Oversight and Inspection Committee Yeah, I remember the resolution being passed a few years ago Snake I, uh, came across some information in my work We found him In the Middle East What? I'll explain along the way We've got to stop him Now Before it's too late Liquid's made his move We found him He's preparing to unleash his insurrection Liquid is lying in wait In a Middle Eastern war zone Track him down Oh, only two eggs today? Holidays must have taken the day off 7, 8, 9, 2 5, 9, 0, 3, 6, 0 3, 3, 0 9, 3, 0 5, 4, 8, 8, 2 I'm going to jump this scene That doesn't have a lot of sense I'm going to jump this scene You know As you know Like Snake It became a day Akron If there was, Ocelot It was in the Middle East You know As you know As you know As you know As you know It was You know And It's Like Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vogliamo cercare il Mach 2 che è più avanti. Allora, vediamo come sono messo. Allora, coltello sordente. Ok, vado. Questo qua mi evitare di essere scoperti al momento. Non è sicuro. Ahia, ecco che arriva il car armato indipendente. Non ci mancavano questi qua che ispezionano la zona. Ci mancava solo il car armato e i rinforzi. Ok, via, 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 via. Ok, devo stare attento, lo fammi ruotare. Perfetto. L'hanno massacrato. Ok, posso uscire adesso. Piano. Piano. Preso. E' atterrato. Ecco, beh, c'è una scarica elettrica. E adesso arriva. Potrei mettere dentro gli armati. Però... Al momento... Mi sembra inutile. Non mi hanno visto, vero? No, non credo. Oh. Va a letto. Tu non mi hai visto. Ok. La situazione ce l'ho sotto controllo. Poi c'è qualcosa. E' la scatola di cartone. Benissimo. Sniper. Sniper. Presa il botto di crawl while running to execute a roll. Rolling can help you dodge enemy attacks and get past small gaps and obstacles. Bene. Adesso ci sono anche questo. Lo elettricizio. Come l'ho detto. Vabbè. Ok, sistemato. Merda. Merda. Cavolo. Va beh. Vabbè. Vabbè. Va da solo stare... Nascosti e non dovrebbero... Beccarmi. peccarmi infatti non mi hanno neanche notato per ora molto bene vabbè io stendere vabbè io mettermi la scatola addosso voilà se per caso i soldati vengono avranno una bella sorpresa non la vedranno neanche arrivare sempre che mi trovano con la scatola però i soldati qua non vengono quasi mai però visto che sono ancora in fase di alerta io sarei nascosti ok siamo quasi bene ok che fu culo ecco 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 qua il mark 2 ecco 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 ecce ecco 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 Ho dato i dati su una ruta alternativa, segui il marco sul tuo radar.